Buongiorno a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un saggio particolarmente interessante perché il suo titolo è La transizione dall'antichità al Medioevo nel Mediterraneo Centro Orientale, a cura di Giovanni Salmeri e Paolo Tomei, pubblicato da pochissimo dalle edizioni ETS e io come mia abitudine non rubo tempo perché ho voglia di sentire parlare di questo libro e do subito la parola a Giovanni Salmeri che ci introdurrà a questa transizione. Prego Giovanni, a te la parola. Ringrazio Maurizio. Allora, questo è un volume, appunto il titolo comunicato, è un volume che raccoglie una serie di saggi, cioè devo confessare che non li ho contati, ma sono circa, devono essere circa, dunque, tre, sei, otto saggi di studiosi dell'Università di Pisa. È un volume particolare perché è un volume che è l'esito di un progetto di Ateneo. l'Ateneo di Pisa mette a disposizione dei fondi per dei progetti di ricerca. Noi abbiamo presentato la richiesta per questo progetto relativo alla transizione dall'antichità al Medioevo nel Mediterraneo Centro Orientale. Il progetto è stato accettato e così è cominciato, sono cominciati i nostri incontri, le nostre discussioni che hanno avuto esito nei saggi contenuti in questo volume. Quello che mi sembra importante è che tutti questi saggi portano avanti delle indagini mirate, cioè su argomenti specifici o su specifiche aree del Mediterraneo Centro Orientale. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di riuscire a costruire un modello differenziato naturalmente dei processi di trasformazione, cioè della transizione, dei processi di trasformazione che danno luogo alla transizione dalla antichità al Medioevo, concetto sul quale si soffermerà tra poco Paolo. Io vorrei sottolineare due elementi. Uno è il primo che a questo volume, a questa raccolta di saggi e su questo tema che è uno dei temi classici della storiografia e dell'archeologia sia medievale sia del mondo antico, cioè a questo volume hanno partecipato sia storici del Medioevo sia storici antichi, perché transizione dall'antichità al Medioevo è non soltanto storici ma anche archeologi. Dunque abbiamo un'utilizzazione di strumenti di ricerca non omogenei, perché abbiamo fonti di archivio, abbiamo testi storiografici, abbiamo scavi archeologici, materiali rinvenuti in questi scavi, iscrizioni, abbiamo appunto questi elementi e poi è il contributo degli storici, il contributo degli archeologi e poi quello che a me sembra interessante è che il processo non viene visto soltanto dal punto di vista finale, cioè d'arrivo, cioè il Medioevo, ma anche dal punto di partenza, cioè che è l'antichità. Perciò si producono appunto delle trasformazioni come quelle della materia, cioè come l'acqua che se si fa riscaldare produce il vapore e così via. Noi seguiamo il processo dall'acqua al vapore e poi anche all'eventuale motore che mette in moto e questo è la prima cosa. Dunque, questo aspetto, diciamo così, diacronico della ricerca, punto primo, e punto secondo, la cosa importante che dicevo è che il nostro punto di vista è un punto di vista differenziato, cioè non guardiamo questo, come di solito si fa questo processo di transizione in un'unica area, cioè che può essere la Sicilia, tanto per dire, cioè la Toscana, l'Italia in generale, la Gallia, eccetera, eccetera. Noi abbiamo un punto di vista differenziato, cioè alla Toscana sono dedicate tre o quattro indagini, pare quattro anzi, sono dedicate quattro indagini. La prima è appunto, il primo saggio è un saggio anche introduttivo e teorico sulla nozione di trasformazione e sulle nozioni di transizione e sull'importanza delle trasformazioni che danno luogo a questa transizione e poi ci sono dei saggi appunto dedicati alla Toscana. Poi ce n'è uno relativo alla Tunisia, ecco, Mediterraneo centrale, nell'area, nella regione di El Kef e poi ce ne sono due dedicati all'Asia minore, cioè una regione che si chiama Cilicia e si trova nella Turchia, nell'attuale Turchia sudorientale. Perciò abbiamo un punto di vista multiplo che ci consente di vedere come questo processo di trasformazione si sviluppa in aree diverse e fornisce appunto questo punto di vista multiplo, questa prospettiva comparativa, fornisce degli strumenti molto importanti per la comprensione dell'argomento di studio. Ora io direi che il nostro Paolo si sofferma, si soffermi, sia importante che si soffermi sulla nozione di transizione, cioè è come questa transizione composta da processi di trasformazione, sulla dimensione teorica di questo concetto che mi sembra molto importante e che è alla base del nostro lavoro, perché noi abbiamo cercato di affrontare il tema in una prospettiva che è dinamica e non è statica. Però lascio la parola immediatamente a Paolo che ci introduce nei segreti della transizione. Grazie Giovanni, grazie Maurizio. Sì, ecco, cerco di rendere brevemente conto di quello che è il concetto chiave, proprio il nodo problematico che ci ha mosso e che poi chi vorrà leggere il volume ritroverà nelle pagine che costituiscono ben più di una prefazione, insomma una cornice, e poi hanno anche una piccola parte di realtà analitica di Simone Collavini che apre il volume. Ecco, perché transizione? Il concetto di transizione è un concetto che riteniamo sia più utile per comprendere le trasformazioni vissute dall'Occidente e dall'Oriente nei secoli che vanno dal terzo al nono. Un concetto che da un lato di fatto rifugge dall'idea di un così quasi uno scatto, un passaggio un po' meccanico fra due mondi sostanzialmente distinti, due entità quasi viste che spesso dialogano poco fra loro, cioè antichità e medioevo, e di questo ha già detto Giovanni, la nostra volontà di così trovare un tavolo d'incontro per riflettere su questi temi da due punti di vista, anzi da più di due punti di vista in realtà. D'altra parte perché ricorre al concetto di transizione da un lato ci risolve da quello che può essere un rischio, cioè quello di utilizzare una coppia di concetti, continuità, frattura, tutti abbiamo a mente a scuola le immagini così catastrofiche apportate dal 476, insomma la lunghissima tradizione che muove da Ghibbo in avanti ecco, questo è un concetto morbido, flessibile, duttile, che rende meglio conto di questa fase storica. D'altra parte abbiamo ricercato anche di così un attimo scartare un po', o quantomeno discorsarsi un attimo da un concetto di tarda antichità che a volte può sembrare un po' troppo statico, indistinto, quasi come voglio dire, abbiamo detto, evitiamo di confrontarci con dei blocchi distinti, no? Quasi tra loro che dialogano poco, ecco, crearne un terzo ci risultava un'operazione concettualmente non proficua, quindi ecco, non considerare la tarda antichità come qualcosa di a sé, distinto dall'antichità e dal medioevo, ecco, bensì appunto il carattere processuale di questo concetto dinamico, flessibile, quello che a noi piaceva, d'altronde si pone su una lunga scia di riflessioni storiografiche molto importanti che ha preso in là dal grande progetto della seconda metà degli anni novanta sulle trasformazioni del mondo romano. Un processo che pone appunto l'accento su quelli che sono i tratti di continuità, o quantomeno i tratti di persistenza nelle strutture che si osservano pur in una fase di cambiamento, come è quella che si verifica nelle varie realtà che si formano dopo quello che è un aspetto decisivo, ovvero questo è un tratto condiviso un po' dalla storiografia, cioè un momento importante di discontinuità che è caratterizzato dalla fine sostanzialmente delle istituzioni romane, diciamo, nella loro dimensione più statale. Quindi questo è un punto importante. Ecco, tutto ciò muove anche da un'altra importante tradizione storiografica che è quella relativa alla riscoperta della connettività a livello mediterraneo, da qui anche questa volontà di tenere insieme Oriente Occidente. Quindi qui non si può non fare riferimento ai due importantissimi volumi, da una parte usciti proprio all'inizio di questo millennio, ormai vent'anni fa, che richiamo perché se non avete ancora letti il consiglio caldo che do di leggerli, da una parte il volume di Peregrine Hodge e Nicolas Purcell dedicato alla connettività appunto dei Corrupted Sea, che proprio ha messo in evidenza l'importanza della persistenza di questo rumore di fondo, di questa rete, il Mediterraneo è come un sistema di spazi regionali, fra loro interconnessi e in osmosi ai loro margini. Quindi questo rumore di fondo che è qualcosa che era già presente, questa rete di connessione già presente in età romana, ma che diventa pienamente apprezzabile dopo, diciamo, la fine dei grandi circuiti commerciali mossi, o quantomeno dei grandi scambi mossi dalle istituzioni statali romane. D'altra parte invece c'è il volume di Michael McCormick sulle origini dell'economia europea, un volume molto dibattuto del 2001, che diciamo anch'esso ha messo in evidenza la persistenza di una continuità per tutti i secoli, anche quelli immaginati come le fasi di Nadir per quanto riguarda la vitalità degli scambi dei circuiti del Mediterraneo. Ecco, questi sono alcuni degli assi teorici che ci hanno portato verso questo concetto di transizione. Ecco, su questo aspetto del rapporto tra Oriente e Occidente riderei volentieri la parola a Giovanni per un'ulteriore puntualizzazione. Grazie Paolo. Ecco, questo è il tema del rapporto tra Oriente e Occidente. Anch'io faccio riferimento, ma rapidissimo, a un'opera di cent'anni fa, se non più, all'opera di Piren, cioè che ha visto la creazione di una frattura, diciamo, tra Oriente e Occidente con le conquiste arabe. Questo Mediterraneo che si divide non ha contatti. Ecco, ad una prospettiva di questo genere i nostri saggi, saggi contenuti nel volume, a fronte di questa prospettiva, i saggi contenuti nel volume hanno cercato di offrire un'immagine in cui il rapporto tra Oriente e Occidente non è un rapporto di separazione. Cioè, le due realtà non procedono in modo distinto, ma esistono, come diceva Paolo poco fa, delle forti relazioni di tipo che le connettono. Sono anche, e in questo senso è fondamentale l'archeologia, no? Cioè, sono anche relazioni che noi possiamo indagare, individuare tramite l'archeologia, ad esempio, lo studio dei relitti navali, no? Cioè, se, ad esempio, in Israele, all'Università di Haifa esistono delle, diciamo così, dei colleghi che si occupano proprio di questo e vedono come, cioè, il contenuto di queste navi che a volte salivano dall'Egitto verso l'Asia Minore, oppure venivano anche dal Mediterraneo occidentale, eccetera, eccetera, cioè avevano dei contenuti, cioè estremamente mescolati. Ecco, esattamente come le navi del periodo arcaico greco, cioè avevano, portavano prodotti come il terebinto oppure dei vasi prodotti in Grecia o nelle isole o a Creta, o anche delle, o anche i minerali, i metalli che provenivano dalla Sardegna e così via. Cioè, era un mondo che aveva delle forti connessioni e queste connessioni non si limitano soltanto alla dimensione, appunto, non le possiamo appunto indagare tramite l'aspetto archeologico, ma anche tramite l'aspetto culturale e direi anche religioso, perché non dobbiamo dimenticare, cioè, lo stretto contatto che esisteva costantemente, cioè, come la chiesa di Roma che sembra così distante anche dal mondo orientale, ma di fatto, cioè, fino allo scisma era estremamente presente, no? Cioè, dei papi si muovevano da Roma per partecipare a concili in Asia Minore nel corso dei secoli, appunto, di questi secoli della transizione. E poi questa dimensione, appunto, di non frattura tra Oriente e Occidente, come ha accennato poco fa Paolo, il modo migliore per coglierla è tramite, appunto, un'indagine di tipo regionale, no? Questo regionalismo, cioè che anche nel, io sono uno storico antico, Paolo è uno storico medievale, ci portiamo un po' le tradizioni delle nostre discipline dietro, no? Cioè, per noi che studiamo l'impero romano il regionalismo è fondamentale, no? Cioè, rispetto ad un impero monolitico, come a volte si tende a pensare, soprattutto da parte dei giuristi, no? Cioè, noi, appunto, praticando una forma di storia, cioè, in cui il contributo dell'archeologia, ma anche dell'epigrafia e di altre discipline fondamentali, vediamo una dimensione molto più dinamica e riusciamo a ricostruire delle dinamiche regionali all'interno, appunto, di tutto l'impero romano. Lo stesso è possibile per questi secoli di transizione. Ad esempio, una terra estremamente interessante da questo punto di vista è la Sicilia, no? Che non è trattata nel nostro volume, cioè, ma questa Sicilia è veramente un momento, appunto, sia su base archeologica, ma anche su base dei manoscritti che sono stati miniati nella Sicilia stessa, oppure a tramite, appunto, produzione storiografica, noi vediamo che è perfettamente inserita nel contesto orientale, forse più che nel contesto, diciamo, occidentale e italiano. Dunque, questo è un modo per superare questa distinzione piregniana, cioè, gli arabi di fatto, e questo è un tema su cui mi soffermo ora e di cui si parla nell'ultimo saggio e nell'ultimo e nel penultimo saggio del volume, dedicati a una città della Cilicia, che è una regione dell'Asia minore, una regione attualmente della Turchia sudorientale, cioè, in questa regione dell'Asia minore, in questa Cilicia, cioè, si ha veramente una prospettiva da questa regione, noi possiamo cogliere una prospettiva di, appunto, non frattura, cioè, in questa regione l'invasione araba, cioè, non ha rappresentato una scomparsa di quelli che erano le caratteristiche della Podis, cioè, questa città che si chiamava Metsuestia, era una città amministrata secondo quelli che erano le tradizioni della città greca, che si sono conservate almeno fino all'impero di Giustiniano, cioè, esistevano delle strutture civiche, cioè, delle strutture separate naturalmente da quelle religiose, si continuava ad usare l'era cittadina, cioè la datazione degli eventi della città secondo una era, una epoca, a cui era stato, che aveva avuto inizio nel primo secolo a.C., perciò voi immaginate, intorno al 570, si diceva, è l'anno 624 dell'era civica, cioè, perciò, in queste città, questa antichità, questa era che partiva dal 67 a.C., cioè, continuava e continuata, abbiamo testimonianze più grafiche, fino al regno di Giustiniano, cioè, perciò, questo è importante da tenere presente, cioè, questo fatto che la conquista araba, cioè, a parte il fatto che non c'erano state fratture significative, che fino al VI secolo, fino al VII secolo, neanche la conquista persiana, cioè, aveva, aveva interrotto questa tradizione civica, no? E la conquista araba non la interrompe neppure, perché questa cultura, cultura greca, questa, queste tradizioni continuano ad esistere, ed esiste un mongol, cioè, questa Mopsuestia era una città lungo la frontiera islamico-bizzantina, cioè, passata varie volte di mano dai bizantini agli arabi, all'inizio anche ai persiani, cioè, ma la popolazione, in sostanza, rimaneva la stessa, c'erano dei cambiamenti culturali, si costruivano dei nuovi edifici, cioè, ma la tradizione non veniva soppiantata, e, ad esempio, abbiamo anche dei mosaici, cioè, che riprengono le tradizioni artistiche, ellenistiche e greche, ancora in secoli come il V o il VI. E c'è un articolo molto importante di uno studioso inglese che si chiama Kennedy, From Polis to Madina, che significa il passaggio da Polis a Madina, e, appunto, è la città araba, cioè, come avviene a livello urbanistico, cioè, le strutture di fondo delle città greche restano, perciò, in questo periodo che Paolo, giustamente, ha delimitato tra il III e il IX secolo, e a volte anche oltre, ora vediamo per l'Italia come, appunto, si può affrontare questa problematica, cioè, rimangono queste strutture di fondo. Perciò è una transizione in quest'area molto lenta. Ci sono delle trasformazioni, e certamente, cioè, quando arriviamo al X-X secolo, cioè, noi abbiamo una realtà diversa, cioè, rispetto a quella che abbiamo visto nei secoli precedenti. Però, torno a ripetere, ci sono delle permanenze strutturali molto importanti, cioè, come, ad esempio, l'amministrazione della realtà, appunto, del territorio, cioè, oppure anche da un punto di vista culturale, no? Cioè, poi il cristianesimo, che si introduce a partire dal III secolo, diventa anche esso un elemento di continuità. Cioè, la religione cristiana, che nelle aree dell'Oriente, cioè, è compresente insieme a quella ebraica, che è molto significativa, ad esempio, nell'ultimo saggio, si sottolinea, appunto, questa compresenza nelle città della regione di Cilicia, di religione ebraica e di religione cristiana, e poi arriva la religione islamica, cioè, arriva la religione islamica, che non viene del tutto a soppiantare le tradizioni precedenti, essi vengono a creare delle situazioni di hybridity, cioè, di connessione e di scambio tra queste realtà religiose. Concludo, prima di passare la parola a Paolo, ricordando un libro molto interessante, cioè, per lo studio di questa regione di frontiera islamico-bizantina, di un studioso americano, che si chiama Asha Eger, A-S-A-E-G-E-R, cioè, proprio dedicata alla frontiera islamico-bizantina, che non viene vista come un momento di separazione, cioè, ma è un momento di, diciamo così, soprattutto più che separazione incontro, cioè, è una frontiera permeabile, attraverso cui passano non solo beni, ma anche cultura, idee e uomini. Ecco, ti lascio la parola per affrontare questo discorso per la parte un po' occidentale e sul tuo bel saggio sul sale e la seta. Grazie Giovanni. Sì, ecco, le parole chiave che diamo più volte ripetute in questi minuti, connettività, regionalizzazione, sono parole che riprendo anche, per quanto riguarda, no, diciamo, il quadrante occidentale, ancora più, forse, ecco, la seconda regionalizzazione qua. Questa è una parola chiave che si è affermata sempre più grazie agli studi di Chris Wickham, che anche si discendono a questa grande stagione di riflessione sulle trasformazioni del mondo romano. L'eredità di Roma, l'importanza dell'eredità di Roma nei diversi frammenti che si formano dopo quella che è, come dire, la crisi dello Stato romano. Ecco, una crisi che, come dire, fa sì che questa eredità non venga totalmente dispersa, ma sia a disposizione degli organismi politici che provano a raccoglierla, provano a rielaborarla in maniera diversa, affrontando una sfida, una sfida importantissima, una sfida che è totalmente sconosciuta a Oriente, cioè far fronte a nuove modalità, nuove forme di finanziamento. Quella che è una rottura fondamentale, che è condivisa un po' da tutti, che hanno questo approccio che è stato definito fiscalista, legato alla New Fiscal History, cioè l'importanza delle basi economiche del potere pubblico e quanto sia decisiva in Occidente la transizione che si ha dalle tasse, dal sistema fiscale romano, a invece una politica che da Mark Bloch si chiama politica della terra. Sostanzialmente in termini economici le istituzioni pubbliche agiscono come dei grandi proprietari fondiari. Ecco, a questi temi sono dedicati i primi due esaggi del volume. Dicevo, un'importanza della complessità, della pluralità, delle trasformazioni e anche appunto delle risposte a una situazione di crisi. Anche qui, non è che ciascun frammento, ciascuna regione conosca tempi e forme che siano univoci per quanto riguarda gli aspetti della politica, della società, dell'economia. Anche qui bisogna stare molto attenti e andare a osservare, appunto, già l'ho detto, con cura a calibrare attentamente quelli che sono elementi, momenti di persistenza, momenti ed elementi di trasformazione. Ed ecco, dicevo, questo tema delle forme di finanziamento dello Stato, questa attenzione alla, come dire, al mutamento, alle persistenze ma anche alle trasformazioni nella continuità. Ecco, un caso di studio che troverete è dedicato alla Toscana. Dedicato alla Toscana è dedicato a due, una parte è più, si interroga su quello che è il, può essere il destino della base fondiaria delle istituzioni pubbliche in età romana e com'è che si forma invece quella che è, diciamo, la benzina che muove la macchina statale nel Medioevo che essenzialmente non sono più le tasse ma è la terra e questo è il primo di Simone Collavini e quindi osserva i tratti di continuità e di discontinuità soprattutto nella distribuzione geografica e nelle forme di gestione della base fondiaria pubblica. D'altra parte invece nel mio saggio che è il secondo l'attenzione si sposta su quelli che sono due risorse strategiche due risorse che per loro natura si legono a una parabola di lunga diacronia di continuità cioè specialmente una cioè il sale e d'altra parte invece quella che è una traccia che si riscontra un elemento di continuità in Toscano ovvero in particolare la lucca che diventa il baricentro politico ed economico della Toscana medievale ovvero la produzione della seta così ho cercato di dimostrare come eccezionalmente a lucca si conservi la capacità di produrre manufatti serici molto preziosi ovviamente anche qui mutamenti nella continuità non un'immobile permanenza sì si conserva questa capacità ma serve essenzialmente per colmare quella che è una lacuna di mercato per così dire cioè per andare a produrre quelli che erano degli oggetti che andavano a completare quello che poteva essere come dire lo stock che era per quanto riguarda abbigliamento vestiario e accessori e calzature era destinato a un aristocratico di rango in occidente di solito la produzione serica arrivava tutta dall'oriente questo l'ha dimostrato molto bene McCormick però non arrivava un elemento che invece era tipico dell'aristocrazia in occidente cioè quelle che nelle fonti si chiamano guindangassia cioè quelli che erano una sorta di fasce per le gambe di gambali che andavano a connotare l'ammeggiamento tipico di un aristocratico alto medievale questi venivano prodotti a Lucca e sono ancora ricordati come una specificità lucchese nell'undicesimo secolo e quindi ecco mi sono divertito a seguire tracce di continuità ma anche qui mutamento nella persistenza molto bene Paolo ora continuerei io rapidamente avviandoci verso la conclusione ci sono degli altri saggi nel volume più di carattere archeologico e riguardano ancora per la Toscana la persistenza di forme di insediamento rappresentate dalle ville aristocratiche dalle ville senatoriali romane ecco questo è un altro elemento cioè di quella che noi possiamo chiamare permanenza persistenza nell'occupazione del territorio questa struttura di ville che rappresenta una 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 delle caratteristiche più significative cioè nell'ambito dell'Italia dei secoli dal quarto al sesto questo è un articolo che si deve a Fulvia Donati che ha scavato la villa di San Vincenzino a Cecina appunto a Cecina e la villa è appunto la villa della famiglia senatoriale dei Cecina un altro articolo più rivolto al periodo medievale e sulle forme dell'insediamento nella valle dell'Arno e sulle appunto persistenze quello che diceva Paolo e appunto e anche trasformazioni cioè non è non sono dei processi semplici e lineari no dice si va tutto in una direzione no ci sono dei processi appunto cioè che a volte tornano indietro a volte cioè hanno delle nette accelerazioni è un saggio di Federico Cantini vi leggo il titolo Powers in Transition appunto poteri nella transizione la valle dell'Arno tra tarda antichità ed età carolingia una prospettiva archeologica ecco dopo questi saggi nel volume si lascia la Toscana e entriamo cioè nell'ambito mediterraneo cioè per il mediterraneo centrale vi dicevo c'è un saggio di Fabio Fabiani insieme a dei colleghi tunisini che è centrato sullo scavo svolto appunto da Fabiani insieme ai colleghi tunisini in una località della Tunisia della provincia di El Kef la località si chiama Altimburos cioè lo scavo ha riguardato questa è una molto interessante riguardato una struttura che ha avuto una continuità di vita molto lunga cioè inizialmente era un tempio appunto collegato appunto con di radici puniche la tradizione punica della in età avanti Cristo no il periodo della Repubblica Romana e fino diciamo agli inizi dell'età imperiale un tempio dedicato a Balhamon e successivamente diventa un tempio di Saturno cioè sono Balhamon si suole identificare spesso con Saturno poi tra il terzo e il quarto secolo abbiamo il tempio viene sostituito cioè da un mansoleo e poi anche da una basilica fino a quando con il settimo secolo è l'arrivo degli arabi in Africa settentrionale la struttura viene abbandonata più che distrutta viene abbandonata cioè questo è molto significativo cioè in questo caso noi abbiamo cioè per l'Africa settentrionale ma non non tutte le città non tutte le realtà dell'Africa settentrionale vengono abbandonate o distrutte con l'arrivo degli arabi cioè ma ci sono delle forme naturalmente di persistenza continuo all'insediamento cioè in questo caso invece la struttura viene abbandonata e poi i due saggi di cui già ci ho parlato all'inizio relativi a Mopsuestia questa città che oggi è un villaggio che si chiama Misis è un villaggio che insiste ancora sull'antica città greco romana poi bizantina poi araba e poi quello che è interessante se noi vogliamo continuare ancora nei secoli oltre l'undicesimo il dodicesimo diventa uno dei centri principali del piccolo regno di Armenia no? Cioè perciò questa è una città che è un vero cioè è un vero palinzesto no? Si succedono queste queste questi questi strati e in fondo possiamo dire che persino nella città diciamo di quindicesimo e sedicesimo secolo nella città che possiamo dire ottomana continuano delle permanenze relative al cioè che provengono cioè appunto dai secoli dell'impero romano e dell'impero bizantino ora questa conclusione non vuole significare non vuole dire cioè che noi abbiamo una serie di una continuità senza diciamo senza se e senza ma no? Assolutamente cioè la transizione è un processo complesso un processo di trasformazione in cui permangono proprio degli elementi mentre altri se ne creano se ne formano cioè in cui è proprio poi il contatto tra queste diverse regioni cioè che dà vita cioè che dà stimolo al processo e ai cambiamenti perciò cioè di solito si ha una tendenza tra alcuni studiosi a diciamo così a insistere sulla tematica della continuità cioè noi nel volume abbiamo preferito appunto parlare di transizione parlare di trasformazioni cioè e senza neanche però insistere sulle fratture ecco cioè è un discorso estremamente complicato io penso che se voi volete seguire qualcuno di voi intende diciamo leggere questo volume potrà vedere come questi questi diciamo questo processo si sviluppo e concludo con un riferimento a quella che è la nostra città la città della nostra università che è Pisa c'è un saggio di Maria Letizia Gualandi che è proprio dedicato cioè a quello che succede a Pisa in questi secoli di transizione cioè la città romana prima era diciamo ruotava era centrata sul corso del fiume Serchio cioè che si trovava a nord di essa cioè nel corso dei secoli della transizione cioè di questi cinque secoli cioè cambia l'asse di riferimento della città e diventa l'Arno come è oggi cioè però non è un processo che avviene ecco questo può rappresentare bene il senso della transizione cioè non è un processo che avviene dall'oggi al domani cioè ma è un processo di assestamento urbanistico che si può seguire archeologicamente e anche con strumenti tecnologici cioè le foto satellitarie e così via si può seguire con estrema attenzione e ci fa vedere come nel corso di questi secoli cioè la città abbia ruotato cioè e abbia cambiato cioè i suoi assi di riferimento io penso questo può essere un esempio significativo Paolo vuoi aggiungere qualche cosa? No ecco ultimissima cosa forse proprio due parole l'importanza del lavoro di equip l'importanza di un lavoro dove si ricerca una consiglienza questa connettività chiama connettività e quindi la cosa bella è di aver lavorato insieme fra storici archeologi epigrafisti e specialisti di secoli diversi grazie Paolo grazie a voi io a questo punto devo ricordare il titolo per i nostri ascoltatori di questo saggio che è la transizione dall'antichità al medioevo nel mediterraneo centro orientale a cura di Giovanni Salmeri Salmari Salmeri e Paolo Tomei appena pubblicato dalle edizioni ETS e con un prezzo che invita all'acquisto perché sono 116 pagine e costa solo 19 euro quindi se volete capirne di più su come è avvenuta questa transizione dall'antichità al medioevo un tema che interessa tutti gli appassionati di medioevo e che spesso uno immagina che avvenga tutto in una notte nel 476 la gente si sveglia e dice adesso sono nel medioevo ecco qui capirà che invece la cosa è decisamente più complessa più articolata più lunga nel tempo e come diceva Giovanni prima è fatta di passi avanti passi indietro fughe e ritirate e questo è il fascino dello studiare la storia nel comprendere i mutamenti e le trasformazioni all'interno della nostra società io vi ringrazio tantissimo di avere accettato il nostro invito invito tutti i nostri videoascoltatori a seguirci sul sito che è www.italiamedievale.org dove potranno trovare anche questa videopresentazione insieme a tutte le altre che abbiamo realizzato in questo interminabile periodo di pandemia e sperando di tornare comunque presto in presenza quindi grazie ancora e a presto grazie a tutti gli ascoltatori e speriamo che quello che abbiamo scritto vi interessi mi associo ai saluti e ringraziamenti e diciamo che il video è forse un po' lungo ma come diceva Maurizio prima il volume poi in realtà è fatto di tanti piccoli contributi agili che si leggono credo molto volentieri con assamor mi invita che il vostro servo sia ed è far l'alma mia se non segui vai sempre per mie e e e e e e e e e Grazie a tutti.